Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Vi chiedo aiuto. Spero dopo la condividerete sui vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Vi chiedo aiuto perché la vostra vita deve essere un immenso sacrificio per una persona bisognosa, un fratello che ha bisogno di aiuto e ha bisogno appunto della vostra bontà. Sia la vostra vita un aiuto per gli altri, senza vedere razza, etnia, ma con i valori giusti e appropriati. Vi chiedo quindi un aiuto. Aiutatemi a rendere bello il mondo nel suo immenso vigore, per gridare la carità è il nostro modello più forte. Ecco, vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Vi chiedo aiuto. Sia la vostra vita un immenso sacrificio per il fratello bisognoso della vostra bontà aulica. Sia la vostra vita un aiuto per gli altri, senza vedere razza, etnia, ma con i valori giusti. Vi chiedo aiuto. Aiutatemi a rendere bello il mondo nel suo tutto, per gridare la carità è il nostro modello. Grazie e spero la condividerete a tutti su WhatsApp. Arrivederci. Grazie.